Nuovo main sponsor per la Pallacanestro Teate, ESA Energie al vostro fianco, Presidente Marchesani con obiettivi importanti. Voglio dire che ormai ESA, è vero che quest'anno sarà il main sponsor, ma ormai mi assiste e mi supporta da tanti anni già nel mondo del ciclismo, quindi con Walter Serpellini ormai c'è una sinergia tale, un'amicizia, che ha portato sempre a grossi risultati. Quest'anno sarà il coronamento di tanti anni di lavoro a livello sportivo fatti insieme e sarà importante perché quest'anno, come non mai, dovrà essere un anno fatale, nel senso che noi puntiamo veramente a conquistare questa Benedetta 2, che è una città che merita e soprattutto dopo una campagna acquisti molto nerosa, molto dispendiosa economicamente, non ci possiamo nascondere di un dito e quindi puntiamo direttamente al salto di categoria. Mancano circa tre settimane all'inizio della preparazione e quindi il presidente Marchesani già ribadisce con forza, vogliamo la Serie A. Assolutamente, dopo aver completato un roster molto importante, aver fatto un mercato velocemente perché siamo andati dritti verso quegli obiettivi che sia il coach che il nostro general manager, Paoletti, indicati sin da fine stagione, avevamo ormai a fine giugno chiuso la campagna acquisti con dei giocatori molto importanti, è chiaro che non ci possiamo nascondere dietro niente e l'obiettivo principale e primario è quello appunto della 2. Chiudo, presidente, guardando al girone nuovo rispetto agli anni passati, sarà un girone di ferro? Preoccupato oppure nessun problema? Assolutamente no, sono anzi contento perché sarà un girone molto più entusiasmante, credo dove si giochi molto di più a pallacanestro, sarà una sorta di A3, diciamo un A3, non un A-B perché le squadre più attrezzate saranno comunque nel nostro girone perché se togliamo Megna le altre sono tutte nel girone C.